Sì, è arrivato proprio il momento di spacchettare alcuni pacchi per sua maestà, ovvero il PC Magari questi attributi un po' troppo... lasciamoli da parte Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video E non so ancora il perché io sia in piedi ma va bene Quest'oggi, come letto dal titolo, visto da miniatura in realtà praticamente ovunque Siamo tornati con un altro episodio della serie che di tanto in tanto mi piace portare qui sul canale In cui aggredo, monto cose, aggiungo cose al mio PC da gaming E quindi nulla, che cosa devo dire? Basta, è finito Il perché io non riesco a essere serio per più di 5 minuti rimane un problema Ma iniziamo con il video Oh, quindi intro a parte siamo tornati finalmente con questo nuovo video che appunto vede come protagonista il mio PC Per chi infatti segue il mio canale da qualche tempo si ricorderà del fatto che ogni tanto mi piace portare questo genere di video In cui vi rendo effettivamente partecipi delle modifiche che faccio al mio PC Ovviamente questa cosa non è che avviene sempre perché insomma non è che tutti i secondi sto a comprare delle cose Però ci sono stati Black Friday di mezzo, ci sono state diverse offerte, diversi prezzi un po' così E quindi niente, ho acquistato qualcosa Vi ricordo prima di cominciare anzitutto che tutti i link dei vari prodotti di oggi vi li lascio in descrizione Quello che magari siete interessati a dargli un'occhiata E più in particolare mi raccomando lasciate un bel pollicione in su sotto questo video E iscrivetevi a questo canale nel caso siete nuovi Anche perché ho visto che una buona parte di voi che guarda i miei video non è iscritta Cioè, iscrivetevi Detto questo, cavola da parte Allora, vi faccio vedere un attimino quello che ho acquistato in questi periodi E questo video come faccio appunto di solito è la prima parte in cui vi mostro i prodotti E poi a brevissimo arriverà un altro video in cui assembliamo tutto quanto e vediamo il risultato finito Comunque allora, il primo oggetto che ho acquistato Di questi magari per chi segue i miei video unboxing si ricorderà perfettamente Durante il periodo del Black Friday ho trovato questo SSD di tipo M.2 della Samsung Il 970 EVO Plus da 500GB In offerta ad un prezzo indubbiamente molto interessante In realtà io possedevo già un SSD all'interno del mio PC e di quelli classici, normali Però non lo so, non è che mi convinca chissà quanto Quindi visto che era in offerta e c'era, l'ho acquistato Altra cosa interessante che ho acquistato sta proprio dentro questo pacco E questo probabilmente non lo avete ancora visto E sì perché alcune cose poi le ho acquistate dopo il Black Friday Ma comunque è rigorosamente in offerta E sto parlando proprio di questo kit di RAM E il kit che già possiedo, quindi della Crucial Ballistic RGB da 3200 MHz Insomma, sono sincero però con voi queste qui le ho adocchiate da un po' di tempo Più che altro perché il prezzo oscillava veramente tantissimo Tra 100€, 105€, i 70, gli 80 E alla fine me ne sono aggiudicate a più o meno 69€ barra 70 Che era il prezzo a cui volevo pagarle Sembra quasi fantastico Comunque come stavo dicendo questo è un kit 8x8 per un totale di 16 Che andranno a sommarsi agli altri attuali 16 per un totale di 32 Sì sono decisamente overkill però in realtà il mio PC non è che lo utilizzi solamente per giocare Anche se effettivamente a dirla tutta io in questi periodi sto giocando veramente pochissimo a qualsiasi roba E che mi dispiace un po' però diciamo che mi sto concentrando ad altro Dovrei ritornare a fare le mie sessioni super mega nerd No non è vero, non è che prima me ne facessi però in zoom Quindi adesso andiamo a vedere il prossimo prodottone E questo qui è assolutamente un qualcosa che volevo cambiare Non era necessario o comunque non particolarmente Però sto parlando di lei Esattamente una scheda madre Però c'è un però, c'è un però In realtà questa scheda madre qui che è la TUF Gaming B450 Plus 2 super mega incredibile assurda Volevo prendere l'altro modello ovvero la B550 M qualcosa Che sarebbe stata indubbiamente molto più interessante Però diciamo che i tempi di spedizione erano abbastanza biblici Oltre al fatto che costava tipo 200 euro Che sì va bene per carità però so che si può trovare a di meno Ovunque a parte questo la scheda madre in questione è proprio lei Cioè è gigante È effettivamente gigante rispetto alla mia attuale Uh bella 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 Questa è la scheda madre in questione Nel formato ATX Ho scelto appositamente di comprarla così tanto grande Anche se potrei effettivamente pentirmene con il case che dovrei potenzialmente sostituire Ma ancora non è detto E appunto questa è la signorina in questione Davvero esteticamente molto molto bella Dovrebbe anche essere RGB da qualche parte Voglio però essere sincero con voi Tempo che andiamo un attimino a vedere cosa c'è in confezione In realtà io ho acquistato un'altra scheda madre Non perché la mia attuale non andasse più bene Ma il perché ve lo spiego subitissimo Oltre al fatto che in questa scheda madre qui c'erano gli adesivi E li volevo troppo Dicevo che ho voluto sostituire la scheda madre Per la semplice motivazione che In primis volevo una scheda madre ATX Quindi super mega gigante In secondis necessitavo di una porta USB di tipo C E sì avete ragione Potevo comprare un adattatore Sistemare le robe Ma il tutto non funziona con questo simpatico oggetto qui Di che cosa si tratta? Beh ve ne parlerò meglio all'interno di un video prima o poi Quanto sa che ci permette di duplicare Lo schermo del nostro PC Su un qualsiasi dispositivo E quindi che ne so Trasformare un iPad in un monitor Praticamente con latenza bassissima E con qualità effettiva Ma questa è un'altra storia E ve ne parlerò sicuramente più avanti Per il momento quindi mettiamo a posto la nostra scheda madre Vediamo se questa potrà soddisfare le mie esigenze Anche perché sennò reso Il prossimo prodotto potreste pensare che sia il case E invece no E qui in realtà sorge il dubbio esistenziale Allora vi spiego un attimino una cosa Io ho questo esattissimo dissipatore a liquido di Arctic Liquid Freezer 2 RGB Super Mega OP Con radiatore da 360 mm Che è tipo una roba incredibilmente gigante Bene la mia idea è quella di provare Ma non è proprio manco detto in minima parte Che ci riesca Di mettere questo coso all'interno del case Che tra poco vi faccio vedere E' una cosa che assolutamente penso sia improbabile Che riesca a fare Ma in realtà ho voluto anche condividere con voi Questi acquisti e tutte le cose varie Per un consiglio da parte vostra Comunque il dissipatore in questione è proprio lui Cioè guardate qui che imponenza bestiale Praticamente uguale a quello che già possiedo Però da 240 mm In questo caso non sono ventole ARGB Ma RGB normalissime E come appunto vi stavo dicendo Beh le dimensioni non sono proprio poco importanti Però è veramente molto bello L'ho provato a collegare un attimino all'alimentazione E' veramente fighissimo Però c'è un dilemma Ci entrerà mai lì dentro? Boh Secondo me no Però ancora non ho provato Quindi potrei ricredermi Andiamo quindi con farvi vedere il case Allora il signorino in questione Arriva dai nostri amici di Bitfenix Che mi hanno Tra l'altro si mi siedo perché ho una certa età Che mi hanno inviato questo case Che è praticamente la versione Di quello che possiedo già Ma in formato più ristretto E è una cosa in particolare Che io non ho mai posseduto su un PC Oh ci stanno tutte le palline di polistirolo Sì la cosa particolare È proprio la colorazione bianca Wow che cosa rivoluzionaria Però sì effettivamente è vero È il mio primissimo case Che possiedo in colorazione bianca Sinceramente non so perché Mi sia venuta in mente L'idea di farmi inviare questo case Di questa colorazione Però boh volevo un attimino variare La particolarità che appunto Lo differenzia rispetto a quello Che possiedo già È che è più stretto Cioè a livello di altezza Sono uguali A livello invece di lunghezza No perché questo è molto più stretto E qui in realtà sarà davvero Molto interessante Soprattutto capire Come anzitutto Strutturare i vari componenti Il problema della scheda video Non c'è assolutamente Perché come ben sapete La mia ha un formato mini Ma comunque è una GTX 1660 da 6GB No perché alcuni di voi Sotto gli ultimi video Degli upgrade di PC E quant'altro Erano e sono forse ancora Tuttora convinti Che io abbia una 1650 Cosa che non è così Però niente Questo è Allora effettivamente Il case è molto 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 carino Esteticamente ci sta Forse c'è qualche piccolo dettaglio Che non mi fa impazzire Tipo ad esempio Questo Tipo questo spazio qui Che mette in vista L'alimentatore Però per il resto Direi che non è male Altra cosa interessantissima È proprio legata invece A tutto quello Che è il comparto Delle ventole Perché a differenza Dall'altro modello Adesso non so se riuscite Per bene qui a vedere Questo case Ha praticamente Un mini controller Che gestisce tutte e quattro Le ventole Sia in ambito RGB Che alimentazione Ed è assolutamente Una cosa comoda Comunque la mole di fili Rimane incredibilmente Super importante Però in qualche modo Possiamo dire Che sia un po' limitata Come vi dicevo Effettivamente è bello Bellocciotto Non è assolutamente Troppo grande Ma in realtà Boh non lo so Cioè come faccio A farci esattamente Entrare Un 360 mm Qui dentro Potreste magari pensare Sì lo metti Nella parte frontale Ci sta Sì ok Ma questi 200 metri Di tubo Com'è che esattamente Li gestisco Vabbè comunque Nel caso Mi ingegnerò Farò un po' di test Vedrò un attimino Cosa fare E nel caso comunque Non è un problema Cioè della serie Ed edito il mio 240 mm E lo piazzo Qui da qualche parte Magari sul frontale Oppure nella parte superiore Non so Comunque Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate A riguardo Io onestamente Sono molto curioso Di vedere che Caspita ne esce fuori Perché c'è un lavoro Abbastanza importante Da gestire Non solo Per quanto riguarda La questione Radiatore E dissipazione E quant'altro Ma anche per tutto Il comparto RGB Ventola E tutto il resto Sarà una sfida Interessante Comunque Detto questo Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Di tutto L'Ambaradam Spero che questo video In qualche modo Vi sia piaciuto In cui vi ho parlato Un po' Di quelle che sono Le idee generiche Sul pc Che andremo ad assemblare In qualche modo All'interno del prossimo episodio Vi ringrazio per la visione Noi ci becchiamo Come sempre alla prossima E niente Vi saluto Ciao a tutti